Il libro dedicato al Santo di Pietrelcina è una volta due belle figure di Cappuccini, uno è Padre Pio naturalmente, l'altro è Fra Daniele Natale alla scuola del Santo di Pietrelcina. Infatti questo libro scritto da Gennaro Prezioso si intitola Fra Daniele Natale, una delle più belle figure di Frate Cappuccino. Voglio leggere la prefazione scritta dall'autore, da Gennaro Prezioso, perché è anche un modo per ricordarlo. Gennaro Prezioso è morto prematuramente diversi anni fa ed è stato caporedattore anche della rivista Voce di Padre Pio del mensile dei Frati Cappuccini. Scrive Gennaro nella prefazione raccontando appunto di Fra Daniele Natale. Mi sembra di rivederlo ancora umile, affabile, sorridente. Nell'autunno del 1980 l'avevo invitato a parlare al gruppo di preghiera di Padre Pio, da me costituito a Lucera, e Fra Daniele aveva accettato di buon grado. Giunse qualche ora prima dell'ora stabilita e ne approfittai per farlo salire a casa mia. Fu lieto di conoscere mia moglie e i miei tre figli. Mi prese una sorta di commozione, racconta Gennaro Prezioso, specialmente quando vidi mia figlia, nata da solo quattro mesi, tra le sue braccia. Egli disegnò col pollice una piccola croce sulla fronte della bambina e aggiunse «Possa tu crescere sana e santa». In quelle parole c'era la sintesi di un augurio, il più bello che potessi ascoltare. In chiesa ci fu il pienone. Tutti rimasero affascinati dalla sua relazione, che rivelò una fede profonda, un amore sviscerato verso Dio e un'incomparabile devozione per Padre Pio. Dopo la messa fu davvero difficile per Fra Daniele guadagnare l'uscita e raggiungere l'auto che doveva riaccompagnarlo in convento. I fedeli che li si accalcavano intorno desideravano toccare il suo abito e chiedergli una preghiera. E mi vennero in mente le parole di Fra Vittorio Massaro, superiore della Fraternità Cappuccina di Cerignola, per alcuni anni assistente di Padre Pio, il quale, riferendosi alla presa che il suo confratello faceva sulla gente, mi disse testualmente «Fra Daniele arriva dove non arrivano i sacerdoti. È un dono che il Signore ci ha dato. Dobbiamo riconoscerlo». Poi racconta Gennaro di aver incontrato Fra Daniele molte altre volte nel santuario di San Giovanni Rotondo, nel santuario Santa Maria delle Grazie. «Mai avrei pensato che proprio io, a distanza di circa tre lustri dalla sua morte, dovevo essere chiamato a stendere la sua biografia ufficiale da presentare alle competenti autorità ecclesiastiche a corredo dell'istanza che i frati Cappuccini, all'epoca, questo libro appunto è stato stampato diversi anni fa, intendevano produrre al fine di ottenere l'introduzione della sua causa di beatificazione e di canonizzazione che, come ben sappiamo, è in corso». E quindi, scrive Gennaro, mi misi subito all'opera e man mano che compulsavo gli atti, mi sorprendevo sempre di più nello scoprire la vita santa, i carismi e lo spessore spirituale di quest'uomo di Dio. E' un libro davvero che vi consiglio di leggere, perché le storie che riguardano i racconti, che riguardano la vita di Fra Daniele Natale, davvero ti riempiono il cuore. Il libro si intitola «Fra Daniele Natale, una delle più belle figure di frati Cappuccino», edito dalle nostre edizioni Padre Pio, firmato da Gennaro Prezioso. Abbiamo approfittato anche per presentare questo libro e ricordare Gennaro come un collaboratore davvero indimenticato, indimenticabile dei frati Cappuccini. «Il segreto di una vita». La vita è quella di Natuzza Evolo, in questo libro, edito da Ancora Editrice, a firma di Renzo Allegri, giornalista, scrittore, critico musicale. Racconta, o meglio, questo libro raggruppa testimonianze inedite ottenute intervistando la stessa Natuzza e le persone che la conobbero sin da bambina. Testimonianze riproposte in questo libro, che davvero costituisce un documento originale e prezioso, perché parliamo della mistica stigmatizzata più famosa del Novecento, una mistica tutta italiana, nata a Paravati, una frazione della cittadina calabrese di Mileto e morta nel suo paesino il primo novembre del 2009. Natuzza Evolo è stata una donna dalla vita apparentemente normale, quindi madre di cinque figli, analfabeta, è stata però una guida e maestra di vita per le migliaia di persone che accorrevano a lei dall'Italia e dall'estero, per ricevere conforto, aiuto e ascolto. Pagina 137, in questo capitolo si racconta la storia di Francesca, perché tra le pagine del libro sono tante le guarigioni prodigiose attribuite alla preghiera di Natuzza nel corso della sua vita, quindi tra le tante guarigioni prodigiose c'è questa di Francesca, Francesca Sergi, avvocato di Reggio Calabria, una guarigione conosciuta ampiamente documentata, un evento che si è verificato nel gennaio del 2000, sotto il controllo dei medici in ospedali di altissimo livello. La malattia era gravissima, tumore al seno con metastasi diffuse anche al cervello. La diagnosi, eseguita e ripetuta nei migliori laboratori clinici, era assolutamente certa. Gli specialisti, chiamati a valutare la situazione, a mettere in atto i possibili tentativi per strappare l'ammalata al suo destino in fausto, i più celebri specialisti. Alla fine, dopo un calvario durato due mesi, la guarigione si è verificata all'improvviso. in sala operatoria, in un centro oncologico di Parigi, dove i chirurghi constatarono stupefatti che del tumore non c'era più alcuna traccia. Francesca Sergi non ha più avuto alcun disturbo, donna forte, con una personalità spiccata e gelosa della propria privacy. Non ama parlare della sua dolorosa avventura e solo per amore di Natuzza ha accettato di raccontare nei dettagli la sua storia, corredandola con un voluminoso dossier medico che conserva. Racconta Sergio Allegri, conobbi Francesca nel 1997, quando era in piena salute, dinamica e brillante giovane donne in carriera. Nel maggio di quell'anno ero stato chiamato a Paravati a presentare una rivista dal titolo Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, nata con lo scopo di diffondere notizie legate a Natuzza e la sua opera. Quell'invito mi sorprese, scrive Renzo Allegri, anche se dopo il 1977 mi ero interessato alcune volte a Natuzza. Avevo pubblicato articoli su di lei, avevo inserito la sua storia in un mio libro, ma non avevo ottenuto alcun contatto diretto. E qui comincia un intero capitolo, racconta appunto la storia di Francesca, che come ha specificato lo stesso Renzo Allegri, una donna gelosa della propria privacy e che non ha mai voluto raccontare questa dolorosa storia, ma vi consiglio davvero di leggerla, perché sono una decina di pagine in cui viene appunto raccontata questa prodigiosa guarigione, come tante altre che vengono riproposte in questo libro, ma non solo, perché davvero emerge la spiccata spiritualità di Natuzza Evolo, Il segreto di una vita, ancora edizioni. Questo libro è firmato da Renzo Allegri. Cambiamo ora argomento. L'abbiamo presentato tempo fa nel suo penultimo libro, intitolato Vietato Lamentarsi. Lui si chiama Salvo Noè, psicologo, psicoterapeuta e mediatore familiare, e uno dei formatori più apprezzati a livello nazionale. Qual è il suo motto? Il suo motto è confrontarsi per crescere. Dopo Vietato Lamentarsi pubblica, sempre per la San Paolo, prima di giudicare, pensa. Ecco, quindi, con questa bella mano che proprio fa il segno dell'altro. Quindi fermati, prima di giudicare, pensa. Salvo Noè, in questo libro, a pagina 150, scrive, Il pontefice ha indicato la strada dell'amitezza evangelica per lasciare allo spirito la possibilità di lavorare e rigenerarci ad una vita nuova, fatta di unità e di amore. Quando si preferisce chiacchierare, chiacchierare dell'altro, bastonare un po' l'altro, sono cose quotidiane che capitano a tutti, anche a me. Sono tentazioni del manigno che non vuole che lo spirito venga da noi e faccia questa pace, questa amitezza nella comunità cristiana. Andiamo in parrocchia e le signore delle catechesi lottano contro quelle della Caritas. E queste lotte ci sono sempre, anche in famiglia o nel quartiere, ma anche tra amici. E questa non è la vita nuova. Quando viene lo spirito, ci fa nascere in una vita nuova, ci fa miti caritatevoli. Non giudicare nessuno. L'unico giudice è il Signore. Il suggerimento è stare zitti. E se devo dire qualcosa, la dico a lui, a lei, e non a tutto il quartiere, soltanto a chi può rimediare la situazione. Questo è soltanto un passo nella vita nuova, ma è un passo quotidiano. Se con la grazia dello Spirito riusciamo a non chiacchierare mai, sarà un gran bel passo in avanti e farà bene a tutti. Chiediamo al Signore che manifesti a noi e al mondo la bellezza e la pienezza di questa vita nuova, di questo nascere dello Spirito che viene nella comunità dei fedeli e ci porta ad essere miti e caritatevoli l'uno con l'altro, rispettosi. Questa è la parola che utilizza appunto l'autore del libro Prima di giudicare pensa. Lui si chiama Salvo Noè. Questo libro è edito dalla San Paolo. Concludiamo con un libro simpatico di Pier Giorgio Gianazza che è un sacerdote, vive in Medio Oriente da oltre 50 anni, si occupa di ecumenismo e di dialogo interreligioso. Ma forse di questa sua passione non c'è traccia in questo libro perché è un libro dedicato all'umorismo dal pulpito, fare in modo che le omelie non siano noiose perché come scrive in quarta di copertina l'autore Don Pier Giorgio qual è il colmo per un predicatore entrare in argomento con un'uscita spiritosa perché come dice lui stesso l'incubo di ogni predicatore sono gli sbadigli durante l'omelia e in questo volume l'autore racconta storie di fede e di allegria con aneddoti e curiosità su quello che un po' diventa un momento noioso e un po' monotono della celebrazione ma a volte basta un pizzico di umorismo per risvegliare l'attenzione di un pubblico distratto e ci sono davvero diversi argomenti trattati da Don Pier Giorgio e poi la parte conclusiva del libro è dedicato a storielle antiche vi racconto una al volo uno dei parrocchiani domandò un giorno al curato d'Ars come mai reverendo quando prega la si sente appena mentre invece quando predica grida così forte semplice quando prego ho da fare col buon dio che ha orecchie finissime quando predico ho a che fare con dei sordi bellissimo questo racconto questo aneddoto riportato in questo libro di Don Pier Giorgio Gianazza edito dalla LDC intitolato Umorismo dal pulpito e con questa segnalazione così spiritosa allegra concludiamo anche questa puntata del nostro appuntamento settimanale con i libri e i consigli di lettura alla prossima grazie a tutti